Di nuovo insieme per la nostra rassegna stampa, continuiamo con il commento delle notizie principali di oggi. Siamo sul portale ansa.it per fare il punto sulla situazione in Nuova Zelanda, con il violento sisma che ha scosso questa nazione, un nuovo terremoto in Nuova Zelanda, intanto per il sisma del giorno prima, due morti, potentissimo terremoto di magnitudo 7.8 che ha colto nel sonno i neozelandesi in piena notte provocando danni estesi, vittime, si parla fino adesso di due morti scatenando anche uno tsunami che seppure con onde alte non più di due metri e mezzo ha fatto schiattare l'evacuazione delle coste orientali, compreso il centro sul mare della capitale Wellington. Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata poi registrata alle 13.34 locali, corrispondenti all'1.34 italiane. Secondo i rilevamenti dell'agenzia sismologica statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 38 km a ovest di Kaikura e 118 a nord di Christchurch. La prima scossa invece colpito pochi minuti dopo la mezzanotte 12 di mattina in Italia con l'epicentro in una zona rurale vicina a Christchurch nel nord della costa orientale della South Island, due o tre lunghissimi minuti di ondeggiamento continuo seguito poi da uno sciame intenso di 45 scosse di assestamento nel giro di poche ore. Si sono aperte crepe nel terreno, strade sono state messe fuori uso, ci sono state frane e smottamenti, muri crollati, finestre e vetrate andate in frantumi con linee ferroviarie che hanno interrotto il traffico e molte aree rimaste anche al buio. Gente terrorizzata si è riversata in strada in preda alla paura con in mente il terribile sisma meno forte del 2011 allora fu magnitudo 6.3 ma con epicentro in città che colpì comunque la stessa zona uccidendo 185 persone ferendone quasi duemila e radendo al suolo diversi edifici di Christchurch. Andiamo invece adesso ad occuparci di questione italiane, un macabro ritrovamento in Puglia, un'anziana uccisa in casa a Palese, provincia di Bari, trovata con la testa in una busta. Un omicidio a Palese, quartiere della periferia nord di Bari, dove ieri sera una donna di 71 anni è stata trovata nel salotto di casa ormai senza vita, con la testa in una busta di plastica sigillata con lo scotch e le mani sporche di sangue. La donna era Rosa Maria Radici, potrebbe essere stata uccisa durante un tentativo di rapina. La signora vedova viveva da sola in una villetta sul lungomare Lorusso, i sopralluoghi sono andati avanti per tutta la notte sul posto di agenti della squadra mobile della questura di Bari e i carabinieri che non hanno riscontrato segni di effrazione alla porta di casa e non sembra l'altra parte che nell'abitazione manchi nulla. Il PM di turno Luciana Silvestris che nelle prossime ore affiderà l'incarico per l'autopsia. Quando gli investigatori sono arrivati nella villetta hanno trovato la vittima in pantofole ed abiti da casa. La donna è morta sicuramente dopo un mezzogiorno. A dare l'allarme e chiamare la polizia è stata la figlia della signora che aveva parlato con lei a telefono in mattinata ma che da mezzogiorno in poi non era più riuscita a mettersi in contatto con la mamma. Parliamo invece adesso di un'altra questione, un'unione civile tra due uomini ma dicono non siamo gay, un'unione per convenienza, una scelta fuori del coro ma dentro i limiti di legge che forse farà discutere. Quella di Gianni e Piero, conviventi da anni ma soltanto amici che hanno deciso di unirsi civilmente sabato prossimo a Schio nel Vicentino. Hanno precisato non siamo gay spiegando che la loro è una scelta di pura convivenza. Gianni Vicentino di 56 anni è un musicista, Piero di origine romane ne ha 70. Convivono da parecchi anni ma non c'entrano i rapporti amorosi, non siamo una coppia, ci prendiamo cura l'uno dell'altro, siamo come fratelli hanno spiegato in un'intervista. Allora perché unirsi civilmente? I due prossimi sposi sono convinti che l'unione civile consentirà loro di accedere a diritti che sarebbero loro negati e di risolvere problemi pratici. Vivono in un comune vicino a Schio, hanno scelto quest'ultimo perché qui hanno potuto sbrigare le pratiche necessarie velocemente nonostante il sindaco sia contrario alle unioni omosessuali. La cerimonia infatti sarà celebrata da un assessore donna e dicono ci sono situazioni in cui non avere un legame riconosciuto crea difficoltà come l'eleggenza in ospedale ma anche per piccole cose, il pagamento delle bollette e del cannone Rai. Prima che venisse messo in bolletta lo addebitavano ad entrambi, una scelta quindi di pura convenienza che però non scandalizza la madre della legge che ha per la prima volta in Italia ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la senatrice del PD Monica Cirinna. Anche una donna può sposare un uomo che non ama per convenienza, i matrimoni di comodo si sono sempre fatti, se stavolta a unirsi sono due uomini che non sono uniti affettivamente ma lo fanno per convenienza, penso che comunque la legge consenta la libertà ai cittadini di farlo, questo il suo commento. E continuiamo la nostra rassegna stampa con altre notizie di oggi, parliamo ancora di unioni ma questa volta si fingono separati per percepire assegno sociale, coniugi denunciati, hanno finto di separarsi quindi per ottenere l'assegno sociale mensile destinato a chi non ha alcun reddito familiare, bene 700 Euro mensili che PG, un settantenne, ha intascato per oltre un decennio senza averne diritto grazie ai consigli della moglie, ex addetta all'ufficio pensioni dell'Inps. I due coniugi sono stati denunciati dalla procura di Ivrea e una guardia di finanza che ha effettuato di indagini, ha posto sotto sequestro 110 mila Euro probabile frutto del raggiro. Dagli accertamenti della guardia di finanza è il risultato che in realtà la coppia continuava a vivere insieme non nella casa fatiscente delle valli di Lanzo in cui l'uomo aveva la residenza ma in un alloggio a Torino. La moglie era inoltre intestataria di vari conti correnti e polizze assicurative e aveva aderito anche a fondi di investimento. Per entrambi l'accusa è di truffa aggravata. Ed ancora incidenti stradali, migrante in bici travolto da auto pirata. È successo a Bolzano, gravi le condizioni di un giovane migrante di 25 anni originario del Bangladesh travolto nel tardo pomeriggio di ieri a Bolzano da un'auto pirata. Ospitato in un centro di accoglienza per i credenti asilo, gestito dalla Caritas, il giovane stava rincasando quando in via Merano poco prima delle 18 è stato travolto da un'auto che non si è fermata. Intervenuti sul posto polizia ed un'ambulanza che ha trasportato il ragazzo all'ospedale di Bolzano. Una donna si è presentata stamani alla polizia locale come l'automobilista protagonista dell'incidente. Ed ancora il Papa ha i senza tetto mai abituarsi alle persone scartate. La persona umana posta da Dio al culmine del creato viene spesso scartata perché si preferiscono le cose che passano. E questo è inaccettabile perché l'uomo è il bene più prezioso agli occhi di Dio. Così il Papa nella messa a San Pietro per il giubileo dei senza fissa dimora. Ed ancora è grave che ci si abitui a questo scarto, bisogna preoccuparsi quando la coscienza si anestetizza e non fa più caso al fratello che ci soffre accanto o ai problemi seri del mondo che diventano soltanto ritornelli già sentiti nelle scalette dei telegiornali. Oggi, cari fratelli e sorelle, il vostro giubileo e con la vostra presenza ci aiutate a sintonizzarci sulla lunghezza d'onda di Dio, a guardare quello che guarda lui. Egli non si ferma all'apparenza ma rivolge lo sguardo sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, sui tanti poveri Lazzaro di oggi. Quindi così Papa Francesco si è rivolto alle persone socialmente escluse, ai senza fissa dimora durante la messa. Quanto ci fa male fingere di non accorgerci di Lazzaro che viene escluso e scartato e voltare la faccia a Dio. È un sintomo di sclerosi spirituale quando l'interesse si concentra sulle cose da produrre invece che sulle persone da amare. Ed ancora brevemente un'altra notizia in Emilia Romagna. Primario aggredito con acido è grave. Restano stabili le condizioni del dottor Stefano Tondi e del figlio Michele aggrediti la sera di giovedì con un aggetto di soda caustica sparato con un fucile ad acqua. Si legge nel bollettino medico diffuso dal Policlinico di Modena dove l'uomo e il giovane sono in cura. Viene spiegato, rimangono ricoverati dal Policlinico di Modena il professor Stefano Tondi, il figlio di Cianomene Michele coinvolti in questa aggressione avvenuta giovedì. Ci fermiamo adesso, piccolo break per noi, ritorneremo poi con tutte le notizie da Roma. A fra poco.